Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite un cantatore, Michele Simonelli A questo punto, per chi non ti conosce, la prima domanda viene spontanea Oggi, chi è Michele Simonelli? Salve a tutti, chi è Michele Simonelli? È un semplice cantautore che ha voglia di farsi ascoltare, di fare musica, di fare melodia soprattutto E a questo punto, prima parliamo dell'ultimo singolo, Rewind Anche se poi molto spesso nella canzone citi un replay Come nasce questo brano, da cosa è tante ispirazione? Allora, questo è un brano, diciamo, che avevo già da un po' in realtà Però mi è venuta poi voglia di rimetterlo su, insomma, nel periodo della pandemia Perché in realtà avevo proprio bisogno, come un po' tutti penso Di trovare la libertà, di socializzare, di respirare, come appunto dicono nel ritornello Ma questo periodo qua di pandemia ci ha fatto soprattutto riflettere Sul passato, sul nostro passato, su quello che è, le cose belle, le cose brutte Insomma, il messaggio è che vivere il presente è molto fondamentale Cioè il passato, anche se noi lo ripercorriamo, perché comunque fa parte della nostra vita Ci deve servire soltanto ad essere migliori oggi Come dire, no per portare chissà quale, capito, ricordo fastidioso, eccetera No, l'importante è quello di respirare e pensare al presente e al futuro, ovviamente Ma soprattutto al presente, che, insomma, è la parte più importante nella nostra vita Perché il dopo poi si vedrà, non si saprà, voglio dire Di passato e passate non ci interessa, quindi voglio dire Pensiamo al presente, in maniera positiva, ovviamente Sappiamo in fondo che tu, essendo probabilmente di anima Non soltanto napoletana, abbiamo visto un'opera, Pino Daniele Un pochettino vivi questo mondo, questo stile di vita E soprattutto questo stile di musica Allora, è stato un progetto che ho realizzato insieme a Paolo Raffone Che, insomma, è stato un collaboratore e direttore d'orchestra di un periodo di Pino Daniele Abbiamo messo su questo progetto, appunto, Pino Daniele Opera È stata, insomma, un'esperienza importante perché mi ha portato poi alla conoscenza di tanti artisti Insomma, anche quelli che poi hanno fatto parte della storia artistica di Pino Come Ernesto Vitolo, come Rosario Germano, Gian Grande Insomma, è stato proprio un percorso per me molto fondamentale E molti di quei musicisti li ho coinvolti anche nel mio brano Nel mio progetto inedito E invece suonare dal vivo davanti a un palco Dove quando si apre la quarta padella qualche tuo collega Inizialmente dice È capitato che mi ha detto Io prima di salire sul palco ci penso e dico Ma chi me l'ha fatto fare? Poi in realtà Quando tu sali sul palco Nonostante che sia concentrato il brano Però senti quell'energia da sotto il palco Che poi è buio Però senti inizialmente un silenzio che parla Poi sale quell'energia Senti quell'emozione sotto Involutamente la fai tua Qual è la tua sensazione a quel punto? Allora, diciamo A me fa l'effetto contrario Cioè, in effetti non vedo l'ora di salire sul palco Anche se è il momento più ansioso Se vogliamo Che poi è anche il momento più bello Se ci rifletti poi dopo Però in quell'istante Come dire, ansia pura È il momento dell'attesa A me, diciamo, mi fa molto Diciamo Mi mette molta ansia All'attesa prima di salire sul palco Perché una volta è salito Io poi, come dire Appena tocco il palco Mi sento a mio agio Quindi voglio dire È vero, insomma L'ansia Credo che ci sia per tutti Insomma E poi chi di più Chi di meno Insomma A me mi fa l'effetto Nel momento dell'attesa Di salire Poi una volta è salito Mi sciolgo Come dire Perché poi è il stesso Il pubblico che ti porta poi A coinvolgerti Insomma A farti sentire Bene E poi una volta è sceso Al palco Che incontri la gente Ti guarda Ti saluta Ti chiedono i selfie Ma soprattutto Ti guardano con quegli occhi In cui ti accoggi Che sei riuscito a dare A far passare Quella un'oretta Due ore Fuori dal mondo E dedicata a te A quel punto Qual è la tua reazione Qual è la tua sensazione Nonostante che poi In alcuni casi Non parli No Diciamo che io mi accorgo Sin da subito In realtà Un artista Diciamo Si accorge Della presenza Positiva del pubblico No Già dai primi Dai primi minuti Quando sale Quindi Dagli occhi Della gente Ti accorgi Che Come dire La serata è piacevole Comunque la gente Sta avvertendo Sensazioni Buone Come dire Sta bene Riesce Insomma A capire Che la gente Sta bene E quindi Poi quando finisce il concerto Ti viene voglia Di avvicinarti Insomma E dare Dagli anche soddisfazione Insomma Come dire Insomma Che poi noi viviamo Grazie al pubblico Ovviamente Se non ci fosse il pubblico Come dire Saremmo a casa A suonare Per noi stessi No? Come dire L'obiettivo Di un artista È quello Di coinvolgere Il pubblico Emotivamente Io Nel mio caso Come dire Perciò Come ti dicevo Sono legato Alla melodia Perché mi piace Che il sentimento Di una melodia Arrivi Ad un pubblico E non intrattenerlo Perché quello Secondo me È un altro Mestiere Cioè L'intrattenitore È un altro Nella realizzazione Delle Delle tue canzoni Prevesci testi lunghi Oppure Un po' più sintetici E ometici Per poter essere Un po' più efficaci Nell'obiettivo Mi piace scrivere Molto ad immagini Quindi Diciamo Non sono il tipo Che magari scrive Diciamo Parole Molto Molto lunghe Nel senso Nel senso Che Cioè Una canzone Discorsiva Ecco no Questo Non lo so fare Mi piace però Ti ripeto Scrivere ad immagini Quindi molto Molti flash No? Molto La scrittura Ad immagini Che poi la fanno Un po' tutti Però c'è chi magari Diventa un testo Un po' più romanzato Invece Ci sono Quelli che magari Con due parole Magari Metaforicamente Ti riescono a far capire Insomma Una determinata storia Ti fanno capire Magari Dove Dove si trova L'artista Insomma Come dire E dove ti trovi tu Perché in realtà Poi le canzoni Sono di chi li ascoltano E li fanno E li fa sue E c'è qualche artista In fondo Che ti porti Dietro Che nel tempo Ti s'accosto Che comunque Non hai rubato Ma hai fatto Un poettino tuo Quella Quel modo Di lavorare Quel modo Che poi Alla fine Ti ha fatto Anche crescere Artisticamente Guarda Io Tornato al discorso Di Pino Daniele Io sono molto legato A lui Ma perché Perché lui È riuscito Veramente A rinnovare La melodia napoletana Ma non solo Cantandola in napoletano Anche L'abbiamo visto Anche poi Portandola Insomma Al grande pubblico In italiano E Mi dispecchio Molto in lui Nel senso Cioè non mi dispecchio Mi piace molto E mi Insomma Affacciarmi Nel suo mondo Perché Alla fine La melodia Essendo Insomma Una cosa Importante Per la musica Specialmente Per noi italiani Che abbiamo L'abbiamo inventata La melodia La canzone emozionale La canzone sentimentale È quello che poi Mi piace molto Suonare e cantare Ma non solo Pino Daniele Ti potrei dire Anche Claudio Imbiaglioni Insomma Tutti quelli Che hanno portato Il sentimento In musica Di quelli italiani Poi ci sono Chiaramente Quelli stranieri Che Come dire Io A me A me piace sempre Insomma Ascoltare Vari generi Perché Sono dell'idea Che la musica Basta che sia bella Insomma Va bene A prescindere dal genere Dall'etichetta Eccetera Però Per esempio La musica americana Ma ha anche influenzato Nel modo Di cantare Perché Quando ho ascoltato Per la prima volta Al genre Per me si è aperto Tutto un mondo O comunque Il fenomeno Stevie Wonder Luder Van der Roost Insomma Tutti questi artisti Che hanno fatto Della nostra melodia Una cosa importante Insomma Nella realizzazione Delle canzoni Nasce prima La musica Oppure Nasce prima Le parole Un beat Un re Un Oppure Possono dire Che accidentalmente Nascono insieme Allora Non c'è chiaramente Una regola Ma In realtà È Una questione Un po' Individuale Nel senso che Un po' Personale Per esempio Io per esempio Sono abituato A scrivere Sul pianoforte A pianoforte Magari Mentre Scrivo E penso La melodia Potrebbe uscire Anche qualche parola E quella parola Lì magari Tu lo annoti E poi la sviluppi In un secondo momento Insomma Però sono Più le canzoni Che dove ho scritto Magari prima La melodia E poi Ci ho abbinato Il testo Perché poi Alla fine Già nella melodia Se noi vogliamo C'è il testo Perché Quello che ti esprime La musica Ovviamente Lo devi esprimere In parole Insomma Quindi Voglio dire Però ci sono anche persone Che magari Scrivono Magari Buttano giù Delle parole E riescono A musicarle Cioè Non c'è Non c'è Una regola Voglio dire Su come scrivere Le canzoni Invece a questo punto Ti pongo Una domanda Un po' più complessa Secondo te Quanto Dell'intelligenza Artificiale L'AIA Può essere Un danno O Un futuro Per la musica Guarda Sicuramente L'intelligenza Artificiale Non ci può dare Il sentimento Non ci può dare L'anima Di chi Di chi esegue No Quella Quella Mettiamo caso Un robot Che suona il pianoforte Voglio dire Ma che Quale emozione Ci può trasmettere Se non Il tecnicismo Puro Di averla suonata In un certo modo No Quindi Credo che Magari L'intelligenza Artificiale Possa sostituire Ecco Il tecnicismo Ma sicuramente L'anima Di ognuno Di noi Il sentimento Non può assolutamente Insomma Esprimerlo No L'unica cosa Che mi fa paura È che Ci sarà Sicuramente Più diffidenza L'indomani Perché Tutto quello Che riusciranno A fare I futuri Musicisti Ci sarà Sempre quella Diffidenza Di capire Se realmente È stata scritta Da loro O dall'interno Però Voglio dire C'è sempre La questione Di suonare Dal vivo Quindi voglio dire Insomma La testimonianza Reale Si ha sul palco No Perché Voglio dire Negli studi A casa Si possono fare Bellissime cose Poi Alla fine Arriverà sempre Il momento In cui devi Salirci sopra E dimostrare A quel punto Che cosa Riesci a fare Insomma Però Non si sa Ancora Non riesco Ancora Ad immaginare Però Posso Già dirti Che ci sarà Che ci sarà Un periodo In cui Saremo Un po' Difidenti Perché Ma questo vale Anche nella fotografia Vale Nell'arte In generale Perché Non si saprà Mai bene Fin quando Magari Ecco Diventeremo Tutti San Tommaso Perché Se non lo vedo Fare davanti A me Non Non ci credo Praticamente Quindi Questo credo Sto pensando Adesso Credo Che Arriveremo A questo punto Invece La musica È scambiata Tanto Da Tutte queste Plattaforme C'è il rischio Che però I giovani Abbiano tanta Visibilità Ma Si perdano In questo mare Di Milioni Di canzoni Che poi Escono giornalmente In queste Plattaforme C'è il rischio Che Se non conosci Il nome Non avendo Roba fisica Poi nel tempo Qualcuno Se le perda Guarda Diciamo che Insomma È cambiato Ovviamente Questi ultimi Vent'anni Il modo Di Condividere La musica Io sono sempre Del parere Che Chi fa buona La musica Avrà più Come dire Durerà nel tempo Nonostante Ci sia Tanta concorrenza Diciamo A portata di mano Perché se apriamo Un qualsiasi Portale digitale Di streaming Troviamo Miliardi Di Canzoni No Sono sempre Il parere Che l'artista A questo punto Deve farsi valere Dal vivo Se l'artista Mi emoziona Dal vivo Allora Vuol dire Quella canzone Che ho ascoltato Sul portale È realmente Diciamo Un qualcosa Frutto Del suo Del suo Lavoro Della sua Anima Insomma Della sua Della sua arte Quindi Voglio dire Benvenga però Che ci siano Queste opportunità Perché una volta Eravamo troppo Legati a quella Casta Di etichette Discografici Discografici Che magari Ecco se non passavi Da loro Non avevi nemmeno Una piccola possibilità Di farti ascoltare Oggi Tutti Possiamo Caricare video Caricare musica E questo Comunque È un È come dire Almeno in questo C'è meritocrazia Nel senso che Comunque anche se L'etichetta Inizialmente Non mi sceglie Però ho la libertà E l'opportunità Di farmi ascoltare Comunque Ad un pubblico Importante Poi sarà stesso Quel pubblico A portare avanti Quel progetto O se no Rimaniere così Come Quindi Voglio dire Ci sono sempre Dei pro e dei contro Però Sono sempre Per questa apertura A A Farsi A Capite A avere L'opportunità Di farsi sentire A A chiunque A questo punto Progetti futuri Oltre a portare Il brano In live Allora Io ho un Epilet Pronto Che Spero di far uscire Nell'inizio Dell'anno prossimo E In questo momento Stiamo portando In giro Radiofonicamente E Comunque Con qualche Ospitata Questo brano E Insomma E pare Che Alla gente Piaccia Ma Io vado Un po' Controtendenza Con questo progetto Perché Nel momento In cui C'è Il rap E il trap La trap Come si chiama Insomma Io vado Controtendenza Perché in realtà Sono molto legato Come ti dicevo Alla melodia Quindi alla canzone Classica Però Comunque Con sonorità Ovviamente Attuali Perché Se no Facciamo Andiamo a fare I retro Però Ognuno di noi Deve fare Quello che si sente Quindi Inutile adattarsi A dei compromessi Dove magari Poi È un abito In cui Non Non Ci si trova Perché magari Non è La propria natura Quindi Io dico Sempre Anche ai ragazzi Di fare Quello che in realtà Uno si sente Di fare Poi È come dire Il mestiere Dell'arrangiatore Portarlo Con un vestito Attuale Perché Voglio dire Però Spero che la melodia Ritorni Perché Fare soltanto Dei freestyle A 300 km orari Gettare parole Ad una velocità Allucinante Facendo delle rime Forzate Se vogliamo Per Tutto il disco Comunque È Un po' stancante Però Voglio dire Piace Quindi rispettiamo Come dire Il pubblico Che lo ascolta Ovviamente Però Mi piacerebbe Che Oltre a quello Perché Non è detto Che O quello O quello Mi piacerebbe Che Oltre al rap Ci sia spazio Anche per la melodia Che è nostra È italiana Quindi insomma È quella che Ci rappresenta E che ci ha rappresentato Per tanti decenni Nel mondo Voglio dire Quindi insomma Perché fare Importare Per forza Qualcosa Che non è nostro In questo caso Dell'America Quando invece Abbiamo un patrimonio Diciamo Culturale Che Che ci invidiano Tutti No Come dire A questo punto Noi siamo Un po' Retro Diciamo Prendendo Il registratore Premendo Rewind O Rewind A questo punto Ci mancano Due cose fondamentali Dove poterti raggiungere Per poterti ascoltare Tutti gli indirizzi E i saluti finali Allora Noi Io ci sono Ovviamente Sui social Sui social TikTok Instagram Eccetera E quindi Mi potrete cercare Appunto Come Michele Simonelli Spotify E per sentire Anche un po' Quelle cose Che ho fatto In passato Insomma Quindi Spero Insomma Perché vi piaccia E che Mi seguiate Insomma E saluti finali Ti ringrazio molto E insomma Per l'ospitalità Perché Sei stato molto carino Questa è un'intervista Che avremmo dovuto fare Un qualche Tempo fa E ci siamo finalmente Riusciti Perché avevo piacere Insomma Di parlare Di fare due carichi E riportezono Quindi Saluto a tutti I tuoi ascoltatori E vi Vi mando un grande Un grande abbraccio E tanti auguri Perché Tra poco Tra non molto Insomma Ripera Natale Quindi insomma Inizierò a darvi A farvi gli auguri Insomma Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Inizierò a darvi E raff� Grazie a tutti